ciao è un calciatore tedesco difensore del milan e della nazionale under 21 tedesca è un difensore centrale capace di giocare anche come mediano o terzino destro dotato di buone dote tecniche utili anche in fase di impostazione la sua struttura fisica gli consente di imporsi sugli avversari sia in fase difensiva sia sulle situazioni di palla inattiva il 29 agosto del 2022 viene acquistato dal milan con cui firma un contratto quinquennale per una cifra corrispondente a circa 5 milioni di euro il 16 ottobre successivo esordisce maglia rosso nera in serie a nella vittoriosa trasferta 1 2 contro il verona esordisce in champions league il 14 febbraio 2023 partendo da titolare nella gara di andata degli ottavi di finale vinta 1 a 0 contro il tottenham a san siro nell'occasione risulta uno dei migliori in campo il nostro corrispondente è un'occasione risulta uno dei migliori in campo il nostro corrispondente è un'occasione risulta uno dei migliori in campo il nostro corrispondente è un'occasione risulta uno dei migliori in campo il nostro corrispondente è un'occasione risulta uno dei migliori in campo il nostro corrispondente è un'occasione risulta uno dei migliori in campo il nostro corrispondente è un'occasione risulta uno dei migliori in campo